I primogeniti sono speciali. Con tua sorella è stato diverso. Eugenia e Mia sono due sorelle argentine. Mentre Mia è rimasta presso la sontuosa proprietà di famiglia, chiamata la quiete, Eugenia ha scelto di vivere a Parigi, dove il padre aveva lavorato come diplomatico. Un ictus, capitato a papà, richiama Eugenia a casa. Nulla in questa famiglia è come sembra. E sotto la quiete si agitano tensioni e verità nascoste. Dopo il clan che raccontava un'altra famiglia piena di segreti, Pablo Trapero si misura con un amore assoluto, Quello tra due sorelle, incastonato in una cornice ambigua. Trapero dirige in modo empatico e tattile, cambiando più volte registro. Dal melodramma alla commedia nera, dal grottesco al farsesco. E non perde l'occasione per riferire parte del racconto al passato ingombrante del suo paese, Regalando alla storia più di un doppio fondo, a sorpresa.